Sono Corinna, studio per diventare medico, ma da sempre ballare è la mia passione. La musica, la sala, gli amici, le infinite prove, sono parte di ciò che sono. Ogni giorno mi alzo e so che ci saranno tante sfide sul mio cammino. Devo essere pronta, è per questo che mi alleno, imparo, cado, riprovo ancora per raggiungere e realizzare i miei obiettivi. Pensate che non sia un atleta? Sono un atleta urbano.